Ci aspettavamo una partita molto tosta, molto dura contro una squadra che è molto organizzata, che ha carattere, molto fisica e quindi ci aspettavamo questa partita. Nel primo tempo l'unica pecca che abbiamo commesso è che non abbiamo offeso come dovevamo. Ci sono state 3-4 situazioni di partenza, di transizione positiva che non abbiamo realizzato nei migliori modi. Poi nel secondo tempo, come dice lei, la partita è stata molto più bella nel secondo tempo e abbiamo avuto anche tante occasioni di fare il gol, abbiamo cercato di tutti i modi di vincere. I ragazzi hanno dato il massimo, non siamo riusciti a fare gol, siamo stati anche sfortunati.